I computer desktop ASUS rappresentano da sempre una tradizione di prodotti innovativi, longevi e di elevata qualità. In un case dal design eccellente risiede una macchina dalle performance davvero elevate. Il materiale nero lucido dona un tocco di eleganza all'insieme. Sulla parte frontale abbiamo gli slot di espansione per l'alloggiamento delle unità ottiche, mentre in alto troviamo un comodo bay con le diverse connessioni. Tre ingressi per le schede di memoria, due ingressi USB 3.0, due ingressi USB 2.0 e gli ingressi per microfono e cuffie. Come si può vedere dalla scheda tecnica la dotazione hardware è davvero ottima. Processore Intel Core i7 di terza generazione, 8 GB di RAM installata, chipset video Nvidia e hard disk da 2 TB. A tutto questo si aggiungono le connettività Wi-Fi, Ethernet, l'uscita HDMI per il collegamento con dispositivi d'alta definizione e l'audio a 7 canali per avere una piattaforma multimediale di altissimo livello. Il desktop ASUS è dotato di un pacchetto software semplice da utilizzare che permette agli utenti di gestire e monitorare le operazioni di overclocking, la gestione energetica e la velocità delle ventole. Tutte queste caratteristiche rendono il dispositivo all'avanguardia e completo sotto ogni aspetto. Un dispositivo ideale per chi cerca un PC potente da utilizzare per lavoro e come strumento multimediale avanzato.